Salve, noi ci troviamo qui a Mondo Musica, una delle fiere più rappresentative della liuteria nazionale. Siamo di Amadeus e presentiamo la nostra rivista e quest'anno abbiamo presentato due eventi. Uno dedicato alla chitarra tra 800 e 900 con Cinzia Milani e Giulio Tampalini e un altro invece dedicato alle sonate di Schubert con Davide Alogna e David Boldrini. Ogni anno cerchiamo di portare i nostri artisti, gli artisti che incidono per noi in esclusiva qui a Mondo Musica per presentare prima le nostre iniziative e secondo far vedere al mondo della liuteria quali sono i prodotti che si possono fare con i violini e le chitarre, per esempio quest'anno, che vengono prodotte qua a Cremona.